Rivendicano il loro diritto allo studio chiedendo completa gratuità dei servizi scolastici, libero accesso alla cultura, come sancito dalla Costituzione, ed intendono fronteggiare gli attacchi che arrivano non solo dal governo ma anche dall'Europa. Il corteo è partito alle 9 da Piazzale Dante insieme all'Istituto Roiti e il Classico. Siamo partiti alle 9, si è snodato lungo le vie principali di Ferrara. Sono gli studenti dell'UDS che dopo le proteste della scorsa settimana nelle aule degli istituti superiori e in piazza Riostea sono scesi per protestare nelle vie della città. Noi protestiamo perché nella scuola odierna tagli leggi contro la scuola pubblica, tagliano i finanziamenti e tutto quello che riguarda i nostri diritti, un diritto allo studio inesistente partendo dai libri, arrivando fino al trasporto del pubblico che ci deve portare ai nostri istituti. Dicono di no ai finanziamenti per la TAVE, per le missioni di pace e chiedono al governo di investire quei soldi nella valorizzazione della cultura e della ricerca. Sono contrari alla riforma dell'istruzione targata Profumo. Noi non siamo disinformati, le persone che sono presenti al nostro corteo sanno benissimo le motivazioni che io sto spiegando. La cosa importante è che passi il messaggio di informazioni e spirito critico nelle persone che ci osservano. Il corteo, dopo aver sostato in via Savonarola, si è diretto in corso Giovecca. Gli studenti, mentre esibivano striscioni di protesta, alternavano alla camminata anche qualche corsa a passo spedito e momenti di sit-in, sotto gli occhi dei ferraresi incuriositi, fermati ai semafori e agli alt, intimati dal servizio di ordine pubblico. La mobilitazione non si ferma, questo è un piccolo tassello di un grandissimo percorso che cerchiamo di far percorrere a tutti gli studenti medi e dell'Università di Ferrara. Una protesta, quella di oggi, che si è poi conclusa in Largo Castello, alla quale ne seguirà un'altra molto presto. Una protesta che prenda veramente ogni istituto della nostra provincia e che si mobiliti o in piazza con flash mob, con qualsiasi forma che ci è concessa. E domani scenderanno in piazza gli studenti universitari del RUA.